Buonasera a tutti e benvenuti all'inizio di queste meravigliose, splendide, scoppiettanti olimpiadi Nintendo! Applausi! Casino, panico! Abitante mi ha sorpassato! Vai abitante! Sei il nostro nome! Aiuto! Guarda, si accambia, ti attacca comunque! No, attacca a te! Eh sì, attacca a me! Ah, qui c'è la particolare del tizio che devo succhiarlo! Cioè, no, no, no! No, vabbè, vabbè! Non sento i miei pensieri! No! Non sento, aiuto! Non sento i miei pensieri! Non so! Guarda quanti ne abbiamo fatti, Ena! Li avete fatti tutti in un colpo solo, perché me ne sono perdono! Che si disabitui a quel primo posto, eh! Non li sto ascoltando! Che, ci aspettano pure! Visto! Mi aprono pure la portiera adesso, guarda! Facciate! Vai, vai, sono passato! Sul traguardo! No! Non è vero! No! Non è vero! No! Come ha fatto? Come è possibile? Sono bellissimo! Quanti punti hanno? Pochi potrebbero scolarli, eh! No! Sì! Sì! Eh no! 1200. 1240. Mi stavo proprio arrivo a una ruota di distanza! Sentivo il fiato sul collo, in effetti, lo sentivo! Sentivi! La presenza! Tira, 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 tira! Tira dritto! Che cazzo! No! Sì! Tira! Sì! Aspetta, non c'è! Tira! Tira avanti! Non c'ho chissà nella mia vita! Mette troppo le good vibes, sto coso! Sì, se non posso qua traiardare come rimastare! Sì, è tardi, sì! Basta, con le banali infarsa, mi prego! No! Un urlo! Ti sono disperato! No! Dipendi, difendi! Ancora! No, ho preso il muro! Ho preso il muro, mi dispiace! Eh no! Fermate che... Che ne avrete mai! No, si è bagnato i capelli! Dalla, dalla! Ti giuro, ci sto prov... Ecco! Dalla di nuovo! Sì! Sì! Che sì! E sto qui! E sto qui! Che fa Mwena? Gli ridiamo un faccio... Ah! Scusate! Scusate! Scusate!